A Potenza e Matera le celebrazioni per il 242esimo anniversario dalla Fondazione della Guardia di Finanza. Alle cerimoni hanno preso parte gli ufficiali ed i comandanti di reparto delle rispettive sedi, una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia e del Consiglio di Base di rappresentanza ed una aliquota di personale delle varie categorie in servizio. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica è stato reso noto il bilancio dell'attività operativa svolta nei primi cinque mesi del 2016 sull'intero territorio lucano. Lo sviluppo delle indagini di Polizia Giudiziaria ha visto il Corpo concludere 193 deleghe con l'accertamento di 19 reati tributari con una forte incidenza per quelle connesse all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 8 hanno riguardato reati contro la pubblica amministrazione in materia di appalti, 16 casi di indebita richiesta o percezione di finanziamenti a carico del bilancio nazionale e comunitario. L'ammontare delle risorse risultate indebitamente richieste o percepite da parte di 85 responsabili individuati è stato di oltre 5,8 milioni di euro. Ulteriori 114 deleghe hanno riguardato delitti contro il patrimonio, reati falimentari e societari e altre tipologie. Nel 2016 i piani operativi affidati e reparti hanno riguardato la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, la tutela della spesa pubblica e il contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria. Denunciate 40 persone ritenute responsabili di reati fiscali, di cui l'80% riguarda gli illeciti più gravi. Individuati 30 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive, sono risultati sconosciuti al fisco, nonché 11 datori di lavoro che hanno impiegato 15 lavoratori in nero e uno irregolare. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte base per 2,3 milioni di euro ed avanzate proposte di sequestro per 7,8 milioni di euro. I soggetti segnalati all'autorità giudiziaria per reati in materia di appalti sono stati in totale 10 per un valore complessivo di regolarità pari a 11,5 milioni di euro. segnalati alla Corte dei Conti 38,6 milioni di euro di danno erariale. Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria sono stati svolti 23 accertamenti patrimoniali nei confronti di 78 soggetti che hanno consentito di effettuare proposte di sequestro per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro. Sequestrati complessivamente 162 mila articoli contraffatti, recanti falsa indicazione di origine o pericolosi, 12 le denunce. Fitta l'attività di indagine antidroga che ha portato al sequestro di 9 grammi di cocaina e 181 grammi di hashish e marijuana, nonché alla denuncia di 8 persone. Nel settore della tutela ambientale sequestrate due discariche abusive. Grazie. 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 Grazie.